cari amici e carissime amiche di youtube e di tutti i social benvenuti in questo nuovo video di vincent lyonard lampi del pensiero libero e quotidiano mi raccomando lasciate un bel pollice in su action poesia metica gira veloce l'elica c'è un'area magnifica la notte fantastica on the road senza sosta con l'anima elettrica una vita in festa a dir poco epica